allora eccoci qui in un altro nuovo video di dopo pranzo perché devo fare un video dopo pranzo si lo so è vero sto caricando troppi video di fila ma pazienza perché mi piace fare tutti questi video di fila l'uno dopo l'altro comunque spero sti video vi piacciono perché a me mi fanno impazzire sti video sono troppo belli da fare e niente ho però mangiato ho mangiato del pollo pollo arrosto con del ketchup buonissimo ho bevuto il caffè e tra poco mangerò un bel dolce ovvero mangerò del gelato forse per un mukbang non lo so ancora non ho idea ma ci tenevo a fare un bel video mukbang magari lo faccio qua in camera mia vediamo se non vengono le formichine perché le formiche non ce le voglio altrimenti mi sofferverò a farlo in cucina ma dubito che lo farò in cucina vediamo comunque nulla avete mangiato voi spero di sì io sì ho mangiato un punto che ho detto preso un bel caffè uccio ne ho preso ben tre oggi muy bien però tre non fanno bene ma io li prendo lo stesso perché sono una caffetta ramania e quindi la coffee mania cosa vuol dire che mi piace da morire caffè sono una fanatica del caffè quindi sono posso dire posso dirmi a me stessa benvenuta nel mondo del caffè mania perché mi piace troppo il caffè sono una coaffettomale come suol dire e quindi niente nulla adesso tra poco farò questo benedetto video mukbang mini mukbang gelato non so neanche se vi può piacere o meno ma voglio fare questo benedetto video mukbang e cosa altrettirvi nulla spero che vi possa piacere questo video che diccio e appresso questo dopo questo farò un appunto mukbang quindi aspettate a dopo eccomi qua allora sono tornata con gelato perché eccolo qua quindi facciamo una sorta di mukbang gelato non so se vi può piacere l'idea ma mi venuto in mente adesso mentre stiamo registrando questo video con voi lo vedrete a breve perché lo pubblico subito e quindi vedrete mukbang gelato ci facciamo compagnia nel frattempo che creiamo anche un po' anche se già ve l'ho fatta abbastanza ma non è mai abbastanza la compagnia molto buono si tanto c'è gente che mi scrive cos'è la testa e faccio così ma è per vedere che mi scrive e quindi nulla mi ha anche caduto sulle sulle gambe modi è la so sono una pasticciona ditemelo pure però è così mi è caduto sulle gambe gelato che bella cosa fantastico top vabbè me lo metto qua che se no non finisco più è davvero molto buono poi se non riesco a finire tutto il ragazzo mi avverto già che me lo finisco off camera perché si off stavo dicendo sì vabbè la stessa cosa off camera perché così almeno mi guardo un po di tv poi mentre edito questo video non è che lo taglio però almeno cerco di alzare un po di più l'audio di questo video e così almeno mi posso anche guardare i vostri video nel frattempo che monto questo video non so se me lo guardo dall'altro telefono che ho da computer forse è meglio da questo telefono prima lo monto poi guarda vostri video questo è san montana già ve lo dico l'uovo l'uovo e crema di panna se non ero fior di latte non mi ricordo comunque molto buono mi piace a un bel gusto a un buon gusto questo gelato si gustoso dolce dolcino molto buono di solito io mangio il gelato con la stracciatella pistacchio alla nutella oppure addirittura mangio il gelato quello a marena o stracciatella dipende che la che mi piace mangiare la fragola lo mangiavo quando era adolescente ma come a me il gelato alla fragola non mi piace più mi sono stancata e se sentite il rumore sottofondo della tele perché stiamo guardando 15 c'è un po di vento non so se l'avete notato ecco perché non si sente bene il mio audio per gli ottimi video li ho pubblicato buono molto buono ragazzi ragazzi mi sto congelando anche le pareti respiratorie le pareti respiratorie quindi mi sa che io vi lascio qua ovvero nel senso che continuo il gelato off camera perché non voglio annoiarvi troppo ma non voglio neanche fare video troppo corto e nel lungo la via vi metto ma questo voleva essere solo un video breve perché il video troppo lungo non so se mi guardate o meno ma ho capito che un video più breve è meglio è niente ragazze questo è un video breve chiacchiericcio ma anche più che più mukbang che chiacchiericcio e con soluzioni fare oggi pomeriggio ma nulla di che ho intenzione di fare altri video e mandarli tutti in onda anche oggi e anche davanti però altri video continuerò a fare altri video tutti mandandoli in onda uno dopo l'altro voglio continuare così perché non so così partimentimento non peraltro perché mi piace fare questi video allora prima di tutto perché voglio fare per tutti mandare questi video l'onda in onda in l'onda cosa sto dicendo vabbè in onda allora uno sarà skin care make up ginnastica se ci riesco non lo so non voglio permettere cose che poi alla fine non riesco manca a mantenere pulizia a casa pulizia di un genere vediamo cosa mi riesce di meglio di fare lavarà anche i pennelli perché sono suzzissimi video di chiacchiericci ne abbiamo abbastanza ma di fare lo stesso video tag perché non ho più fatto e poi perché no altri video tag e me challenge o che challenge vediamo ciao a presto ragazzi a presto e mettete like se vi è piaciuto questo video scusate il ritardo nel dire mettete like ma anche se non lo dico sempre o quasi più mai nel senso che non lo lo dico spesso e più di quanto dovrei ma se siete arrivate dall'inizio alla fine mettete like ma ne dubito commentate condividete e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ciao a presto un bacio e a dopo anzi perché continuo a fare i video come ho detto ciao ciao